Ed eccoci qua, come promesso, avevo lasciato l'episodio bonus da parte, quindi finirà quando finirà, così la prossima volta potremo cominciare con Tell Me Why, di cui non so nulla. E in realtà neanche di questo so qualcosa in questo episodio in particolare, quindi va bene anche così, insomma. So solo ovviamente che è stata del prequel, del prequel, del prequel, cioè Chloe e Max, prima ancora che si dividessero, sono giovanissime, è una roba pazzesca. E si divertono alla faccia di Toy Story, a far esplodere i giocattoli. E se vuoi che sia? E ridere, Scusi? Sì, sì, come no. Non so in quale universo, ma a quanto pare c'è chi si diverte. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. C'è un'esplosione. C'è un'esplosione così awesome. C'è come se chiede, «Why are puppies cute? C'è un'esplosione. C'è un'esplosione. Non è sicuro che la mia madre potrebbe vedere così. Quando mi ha chiesto di ridere il mio vecchio junko, non ha spiegato come. Ma credo che dovrei fare un'esplosione reale, anche. I'll be excavando il closet. Se volete vedere qualcosa di tracciato, aiutare un'esplosione e cercare il pile. Adesso facciamo le spazzine. Tanto ci divo sempre di no per queste cose che scegliamo. Siamo stati passato la半a della mia vita in questa sala. Probabilmente perché ho. Non posso credere che i giorni sono ora. Ma meglio godersi. Non posso credere che i giorni sono ormai, che non sono ormai. Non posso credere. Non posso credere che i giorni sono ormai. Chloe è sempre una merda. Si guarda un demorale. Chloe stia cercando di portare a me portare su board. Si, si, la sabia che sei risata con le foto. Voi stai via. Mi intendi che ho sopastica e la devi ottenere la piccola. E la devi ottenere la piccola. Tanto, rifiuta tutto. Live fast, die young, and go out with a bang. Citazione a Keisha. Live fast, die young. Salmo. Chloe's had this hung up on her wall forever. But neither of us can figure out what happened. Ci sono l'ultima vignetta. I hope Dr. Cloenstein's okay. La salotta contro il crimine ha giunto di vestirea quando hai carato quei superasi. Certo, potevo lento, potevo sapere. Igo. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to do. Te lo faremo. Instead, we played dress up for an hour. Che vida. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Parte Bongo. Besides Bongo, of course. This was our first unsupervised concert together. It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but... How sick was that show? Secco. Non ho neanche chiesto niente, mi ha battito allo stesso. I've been working on my moves for the next one. Check it out. How about you? Any new moves? Certo. Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn... Caulfield save something for what counts. E' bello. Butta via. E mi dice no. Sono un po' basso. Ma non è vero! Da qualche volta che abbiamo giocato, ho scoperto il piole con te. Proprio Max. Per perdere la tua memoria a così giovane. Credo che dovremmo giocare di nuovo per sapere. Ecco. Nel mio caso... Eh già. Vero, lo sa che tu è satanico. Che secchione. No. Che poeta calmonologo. Altre cose da non buttare. No. 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 La relazione è stata ammessa all'academy per l'anno scuola secondo 189 per i tempi, abbiamo accettato circa 100 studenti su 1.002 candidati, per la fila si distinta di carriere amici della scuola organizzavano un open day per tutti gli studenti e i genitori del 26 marzo, la scadenza per l'anno scorso di aprile, per la quale alleghiamo un modello relativo su un sistema di aiuto economico e i preghieri con l'ufficio e la direzione finanziamentale, chiamiamolo e accogliovi. Com'è? Un vero laboratorio, non è un laboratorio di giocattolo. Cerchiamo di avere sensibilità, dice di niente, dice niente. Per troppo tempo il gioco è rotto perché insistivamo. Sì, 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 ho sbagliato. Poi, puttavia lo squaletto. Poi, mettiamo il muovo. Ogni po' ho visto così. Pam, un'esplosione dell'omore della crescita. Cipolla. Ma che schifo. Leccala. Che schifo. Poi, la resta non è finita. La candela. Il muovo è rotta. Chloe ha avuto questa rapporte per anni. No, va bene. Ha mai... Ti avuto. Hai mai avuto niente. Anche, ecco. C'è questo. Mi chiede la scuola. Se vuoi più pezzi, dovrai trovare lo stesso. Beh, non era proprio la scuola che mamma aveva sperimentato, ma almeno abbiamo provato, certo? Certo. E ora abbiamo il giorno di prima di noi. Cosa vuoi due due amici di spettacolo con piacere e piacere spettacolo oggi? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Oppure... Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Effettivamente. Pensavo ci fossero tre angolone delle grandi conseguenze, ma glielo odio più. The possibilities are endless. Got anything in mind? Actually, you bet your ass I do. I found this when I was digging around before you got here. You're gonna flip. Do you have any idea what this is? Così, piuatesco? Whatever it is, it looks like it came out of our pirate phase. Esatto. Eh, sì. This tape is from five years ago. It's a message from our past selves to our... Wow, come i film di una stage, che bravo, che bravo. That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Ready to find out. Peccato che non sia l'odore. A vast future awayfarer. You have uncovered the audio log of the most fierce pirates in the base of Arcadia. Normally, they still have the audio cassette. And law, Matt Silver. Shhh. magari da qualche anno non l'avevo potuto ascoltarlo, dovevo comprare sui vincitini non voglio dirette sempre, vi così spostalo, che la tripulazione sarà consapevole e il consumo di piacere per trovare il pericotico di prezzo, ci necessitoi先o della schissà graburica di Capitana di Blu Beard solo la schissà può aiutare il pericotico che vi attacchi, ma vi così spostalo un toncro, eh. Ehm, ancora, solo questi con i pezzi puri saranno potrebbero vedere cosa gli amulet mostra. Gli amulet. Buona fortuna! Ehm... Ciao! Ehm... Cosa? Dio... Questo era... Dio, fantastico! Dio, attentissimo! Hilarious! Siamo così, così ridicolosi! Siamo ancora, Max. Siamo ancora. Che vida, che vida! Si vede tantissimo in questo episodio. di un'altra parte. Credo che lo so, che hai detto, che hai detto, sui maniustri di Capitano Bluebeard. Il nostro vecchio schizzo. Questo è dove abbiamo mantenuto tutti i nostri drawingi pirata. Sì. Ora, vediamo questa macchina. ovviamente! Ah! I grandi artisti! Talatatatah! Sì! Il pogo del pirate ... The gang. Vi trovate ragazzi sulla nave, giustamente, condividere i segreti di pirati. Obbligatorio con dividere il bottino. Obbligatorio sottovare il tesoro. Obbligatorio proteggere i compagni pirati. che non piace la gara nei basti coccodrilli un altro giorno di razzire istruzioni in tutto il mare il nostro tesoro ha appena sepolto il nuovo sottoattacco il malvagio accundante esce lì nemisi di tutti i pirati in generale ha minacciato di rubare la nostra mappa se la trova evidentemente ha scoperto quanto è prezioso nostro tesoro e vuole rubarcelo stiamo facendo il nostro meglio per tenere nascosta la mappa mentre continuiamo a lavorarci siccome i nostri nemici vogliono il nostro tesoro a tutti i costi abbiamo sicurato che solo noi possiamo leggere la mappa e ora via verso il prossimo bottino mistero non è che sono bastati così tanti anni sono già scordati tutto quello che ha fatto va di nuovo mi sa se non ha aperto alle cose per cosa fate un lavoro come sempre però c'è che fare attenzione in classe invece fare i disegnini se le strisce capito l'unice la guerra civile ben iniziava negli Stati Uniti il sud decisi sfarsi dell'unione negli Stati Uniti Lincoln fece il discorso di Jack Gettinsburg con il programma di amministrazione le persone battevano la parola di schiavitù con chiamate abolizionisti bene la rete con i tube men collaboro con l'andagrondo per aiutare gli schiavisti a fuggire alla sua libertà nel 64 del congresso però il carice esembrinamento avevano un verifico una giunta la parola di schiavitù beh sono forti bene non cambia niente qua dunque ahah questi panni di Max e Gloria ammigli del cuore le studentesse gli uri di tutta la scuola si inclasse quando all'improvviso di uno scuolato non toccare la finestra lo accarezza lo scuolato la pagina 8 non accarezzare lo scuolato la pagina 3 ma è vero questa cosa qua si perché non riuscire in scuolato gli sono così che di essere una persona lo scuolato l'avrabbiato perché lo è ignorato così entra in classe tipo la relazione da sotto il naso poi scappa fuori quindi è vero quella relazione con lo scuolato è arrivato alla relazione certo come no ovviamente non ti crede cosa fai segui lo scuolato madorra che casino minchia che storie che si sono inventate la prossima volta scrivete le relazioni che vi ho chiesto per favore fotografa un bel selfie concluo esamina esamina bingo aspettavo solo me bene il cannocchiale da muletto è che buio esatto sono ancora lì sono ancora spaventosa che era la domanda giusta e poi anche lì ci sarà un altro problema tu hai ancora un altro esodo è che ci va e che ci va però una storia di life strange senza le droghe è la prima volta come puoi immagini quel sequel pure però particolare salta proprio per l'occhio dopo tutte tutte le sue storie arriva questo qui quello bello pulito perché sono piccole posso proprio andare dove fare e non fermarmi qua voglio diventare una maestra un ciclo che sarebbe bravissima una sita per l'insegnamento a scuola primaria fai il primo passo sì il primo passo il primo passo adesso non viene diventa l'apprendimento quindi si risponde se questo è il trusso dovremmo un modo per realizzarlo eh sì e magari sono proprio così figosi sfigato allo stesso tempo solamente non si può votare non ha parlato in sua vacanza basta non sono presa ma che figata è diventata un nuovo argomento di discussione mi piaceva tantissimo eh ma mi sa che non andrà ho questa sensazione ecco 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 sì e quindi acchioriamo tutto vai il principale di Blackwell vuole con i bambini quindi tutto voglio che sappiate che siamo vicissimi ad avere Chloe per sicuro che quello è successo in un altro consenso tra i vostri studio sembra che voi stia avendo qualche problema ad adattarsi ad un ambiente nuovo più infinitivo e vorrei vederevi in tempi parlare di ciò che è successo settimana scorsa sono l'ultima ricorda del comportamento di Chloe e vorrei trovare una soluzione per voi per correggere il vero possibile sono sicuro che desiderate un futuro brillante per Chloe tanto quanto il futuro in mani dell'eccellenza è ancora una scuola ma lei non si è messa si mette mai nei guai no sono felice che la mia difesa non è stata l'unica solitessa che si è portata male quel giorno e anzi mio padre non è la vittima bensì la bullet in questo caso magari se avesse ascoltato entrambe le versioni della storia prima di incolpare qualcuno alla sua scuola sarebbe un ambiente meno impegnato con gli studenti lei pensi alla sua scuola che la figlia ci penso io cattilissimo questi tipi di persone sono assolutamente due per cui non volevo mandare ancora la becca risolveremo tutto te lo prometto a Joyce messaggio scritto sono dimenticata di diroti che la signora Rogers ha chiamato ieri quando non c'era mi ha lasciato un messaggio ancora salvato sulla sua telefonica ma stai dando quando mi ascolti non voglio che quella la senta dove cercare un mondo poi solo questa situazione so che il presidente ha detto che il suo posto di studio non è in perico ma sono un po' preoccupata e via c'ha un fratello mentre ho già provato l'autorismo politico voglio ringraziarti ancora per averla prestata funziona che è una meraviglia non è certo la cosa casa nei nostri sogni ma almeno adesso sarà del colore giusto quindi non mi dare un amore il prossimo anno fine settimana sappi che ci sarà una bella birretta fresca aspettati sappimi dire ebbene sì l'italiano è difficile dottore spero che valla tutto bene salutami perché lei assomiglia tremendamente a cosa all'amica di Chloe che non mi ricordo si chiama anche non è più amica però sono bravo amici mania grande citazione sono finti non sono per adecuare eh già eh sì eh infatti da poco anche a lui già è normale no perché sennò non è così eh già wow c'era bisogno per lo sportello per dircelo grazie sì 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 perdone Halloween sì 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 sgabuzzo ma va c'era bisogno di alzare il bacio per capirlo però giustamente si è bisogno di aprire lo sportello per raccontarci le cose è normale che l'avrebbe fatto questo ancora non basta se facciamo una piramide poi cade muoio no si scherza vediamo un po' se tanno accesso non credo ci sia qualcosa a me sì 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 penso che c'era qualcosa a questo forse ce la facciamo non so quanto sia ancora diffuso questo sgabello non so come si chiama non basta eh paletto è rotto questo paletto non c'era voluto prendersi la colpa è caduto tipo Pitarli fin dalle scale ah ecco qua c'è chi legge i libri e chi li usa come base per un piccarsi I think that should be tall enough salti hopla hopla attenzione eh oh cioè oh cioè c'è ancora il bogeyman ah c'è l'ha la luce mi pare bastardo c'è l'ha trovato subito c'è l'ha trovato subito 300 anni per rinforzare la terra c'è l'ha trovato subito c'è cavalli incantata pusha pusha i think i can squeeze through now non è sicuro è perché magari può essere incassato non ci passa più è l'altro quindi per passare in qualche modo passi insomma sembra che vada chissà dove prendere l'amuletto non è che sta accendendo una cosa magica non c'è un singolo record eh si non c'è solo 6 centimetri passi nel primo gioco ti spostavano più facilmente di qualsiasi cosa adesso è forte raccomando vocale scrivogliano sapevo ma dai pensavo la combo che dava la testata la scrivania no adesso posso pushare quindi ah no aspetta ho sbagliato tutto devo dire ah no ho questa che sta ha detto solo è un passo più vicino perché per l'uomo è che è citato adesso dovrebbe passarci oh ma posso non è che c'è bisogno di tutto lo spazio del mondo si passa perfetto perfetto guarda quanto è bella oh no poi si sapevo quando chloe e mi decoravano questo ma sono più che la distrugga spuscia ma perché da dietro mi da fastidio che mi fa la clipa registrata da dietro ma forse non è sbagliato anche se avrei dovuto prima esplorare però in realtà adesso che non ce lì il blocco potrebbe pushare ancora no invece no Questa sembrava che fosse una buona sala. Credo che tutto finisce in un atticco. Eh, non è vero. Eh, non. Scusa, eh, però... Però la moletta è là, che giro sto facendo nella mia vita? Sì, ho notato. Ah, il frigo. Adesso lo tocchiamo. Ma l'ho schifato comunque qua. Una parte che c'è poi non mi fa più di tirare la schiavania, quindi boh. Tira ancora. Quante volte devi tirare? Yes. Voleva essere sicura di passare, sì. Quante cose ho schifato? La valigia, eh, vabbè. Quante volte voleva dire se la prenda. Tornare di uacrara. Quante cose? Quanto. Quanto cose sono, eh, è si è diventato bide afficchiamo l'amuleto e parte il meccanismo è già presa bene no no ti prego non fai i monologhi e quindi ciò che pensi non è nel comportamento normale sono cose diverse dicendo digli ciò che pensi ok conversazione strana e non ci sono ancora state conseguenze incredibili sul futuro ancora più strano quest'episodio non ci credo e invece non ci guardiamo intorno è anche il vecchio colore ah ok non il vecchio blu no se no era un po' una barba blu incredibile l'effettivo scotch questo è un esperimento divertente è che si ho voglia di vivere e non si è mai ascoltato di nulla tutto strano lancio così lancio lungo e poi dice ma le palleio nel mio giardino ma che cazzo ah così pensavo fuori chissà cos'è i one piece l'unico l'unico è un primo che c'è la c'è l'unico che c'è l'unico che c'è l'unico che c'è l'unico ma che è combattimento degli insulti sciocchina no dai punk ma che non è un insulto infatti solo una? strano di solito mi pensi di 3000 ok certo che lo sono come ricordo la scena ma io sono il tuo scelto di Harry Potter il tesoro è che non mi invitai mai di più no però sarebbe anche onesto sembra uscito a Super Mario questo cannone è da vantaggio una grande invenzione ma quante ne sapete io ho io ho a Pirate's Rum for me did you drink this? yar a Brutopo no fotografa ah pensavo al culo cammina sull'asse terra in vista walk the plank ok nessun problema perfect la seconda prima dell'incidente dalla scala vai amuleto come se saliva a bordo dai mamma permesso di arrivare capitan Bluebeard girl un amuleto che va all'incidente è una tante l'ultimo giorno facciamola giocare se no poi ci dice non mi hai detto niente in più mi prendi per il culo no meglio che la seconda ah ah non sono capace questo adesivo ce l'hanno con sta sfiga allora è meglio grandi dialoghi comunque pazzesco basta lo te darlo stesso da god vendo che succede qua ma no ma poi penso faccia comunque male perché le foglie non tengono l'impatto cari partea lascia adesivo nastro di sette mari nastro di bianchino no no che tristezza il famoso adesivo di sette mari sono ancora le piratesse dai dai che è l'ultimo giorno è l'ultimo giorno No, 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 no. No, 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 no. oh Zasa sembra questo no eh però sembra tantissimo sto qua perché tollini può essere voilà ma la mia o la tua destra cazzo se fosse al contrario la mia destra spero si intende no è la sua destra esatto e ti sei messa al contrario la mia grazie ma veramente abbiamo già trovato si poteva ma che succede colpo di schiena la mia Ah, tesoro, è la vostra... Chi sa? Che bullone! What the heck? Geniale! That bloody bill... Is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... Friendship, love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ah, così. Ah, non voglio tornare l'alta, voglio fare la piata. Ah, tutto lì per se fosse una ricerca. Il calaballo pazzesco! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, Look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you were having a lot of fun being a teenager with your best friend. Oh, you were so cute. Check it out. Oh, Maxine. Here? Molto bene. Oggi venerati il 27 giugno 2003. Siamo nel pieno delle vacanze estive. Stiamo costruendo una capsule del tempo per un errore del futuro. Stiamo facendo una tema a pirati. Sei divertiti a trovarla? Queste sono alcune delle cose che ci piacciono. Animale preferito? Cavallo arabo, Max. Mi raccomando. E la lontra per Chloe. Non confondiamoci. Cibo preferito? Panino con Aragosta. Ah, Max. Gelato al caffè, Chloe. Cibo preferito? Gelato al caffè. No, scusi. Materia preferita? Educazione artistica o lettura? Max. E scienze di Chloe. Miglior amica l'una e l'altra. E tu? Hai più di 12 anni? Qual è il tuo film preferito? Il tuo film preferito? Chiama il 999. Però è tutto. Spero che tu stia divertendo un sacco alle sono le recenti e insieme al tuo miglior amica. Un po' piacere. Ehm. 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 guardiamo il billy il cavallo è una gioia incollegibile si abbiamo montato l'attività è importante agitiamo a caso vediamo una cosa e l'agitiamo poi si 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 magari tra l'altro MMO non è un multiplayer proprio MMO vogliamo stiamo occupando un po' dopo ma in realtà non penso eh si spendacciona dai va bene adesso ma spaccate il divano qualcos'altro fanno a casa chiamo dai che cazzo che cazzo che cazzo ah non lo sa non lo sa non lo sa ouch oh io ho visto io so rimane calma beh comunque ho prevenuto ho avvisato quindi magari non si incazza per quello vai dimmi cos'è successo dimmi cos'è successo appunto perché è colpa non c'è niente è stata la fiamma del suo becco sti personaggi sti personaggi è il fuoco come si fa a prendere in giro qualcuno per una vostra studio perdonami mi piace un sacco si risolverà tutto si risolverà tutto non so però anche mi piace un sacco dire anche a me però vabbè that really sucks i'm sorry yeah thanks max eh 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 prego è andato tutto bene è andato tutto bene è l'unica volta in cui li vedremo ho una certa più le lavo i piatti così si è sempre lì niente animazione ovviamente che stanno che stanno mi piace molto più di un messo qui che in casa mi piace come le camera polaroid che rende ogni foto sembra un po' nostalgico ok ho trovato tutto di qua ma questa casa la conosciamo benissimo questa è stata una buona settimana ho usato ogni possibile excuse per essere qui buona fortuna se fosse volete dopo un senso mi è entrata una settimana di waffle guardate la magliettina già vista che ha poi la foto chiave della vita soprattutto quando si aprono di colpo beh ancora intero quindi è andata bene ah già fatto non sto direttamente vediamoci non lo voglio come due non lo voglio lo voglio beh non 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 ah il monologo c'era comunque vabbè e leva sti piedi quindi non ho trovato quello che devo fare si 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 è fondamentale avere una è soddisfatta fotografia metti l'imposa con Chloe sempre assieme e potremmo ma ho guardato l'appertutto bene bene si guarda caso cavoli questa è meglio spaccare in titola per sempre ok è sulla via della patia tantissimo come è il giorno di fuoco è appunto Chloe non si accorge di niente ma neanche un po' nooo non puoi farmi questo anche se non ha conseguenze rimediabili dai fino alla fine fino alla fine fino alla fine si ma così gioca di merda perché sta continuando a pensare a quella cosa uno vele a una cosa così voglio aver fatto la scelta giusta dai spacchiamoci nella fantastica un giorno voglio vedere la scelta giusta me anche, mio padre ho visto con mia mamma ha detto che i piedi hanno freddo blu florescente oh mio Dio voglio prendere una foto di questo oh tu devi possiamo andare ogni giorno per assicurare che non perdere sono molto felice siamo iniziati a avere il più divertente pirate hangout ever come abbiamo sempre parlato secondo me da tutto sarà solo per noi due ecco grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Guarda, 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 fate incazzata, guarda, guarda. Ma stiamo oggi, quindi... Lo so. Madonna, che cosa terribile. Non incendiare un'altra foresta per favore. E' solitamente sono definitiva. Poteva dire... Ho avuto a scuola la giornata più bella del mondo visto che era l'ultima, ma non si potrebbe salvare con quel discorso. Buon, finita così. Sì, 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 sì. Che scelte come sono messo. Niente non mi fa vedere che non c'era nessuna... Nessuna conseguenza irripetibile, però neanche farmi vedere le percentuali sarebbe stato carino. Vabbè, quindi... È finito il gioco completo. Ci vediamo, vabbè, a parte questa settimana come al solito, anche lunedì prossimo a cominciare ovviamente Tell Me Why, di cui io non so nulla. Rispetto a questo gioco che avevo già giocato tanti anni fa, poco dopo che è uscito, ma di Tell Me Why non so nulla. L'ho riscattato giusto perché era gratis e sono curiosissimo di sapere, so più o meno di cosa tratta, ma non nello specifico. Quindi la live ci sta che termina qui anche perché sono un pochino stanchino. Spero che vi siate divertiti e ce l'hemi trovati.